Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di Little Nightmare Oggi proseguiamo Grazie 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 perfetto e qui come devo fare devo arrampicarmi di qua immagino cavolo se ci è mancato poco grazie a tutti 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 ma dai grazie a tutti 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 no 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 grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti